Quello a che serve? Le dispiace... Le dispiace stare fermo, per favore? Signore, sono rientrato in questo momento. Era armato? Veramente aveva addosso un aggeggio tipo bombola di ossigeno per l'enfisema, non so... Che cosa? E un tubo che gli scorriva dentro la manica. Oh, e quella roba a che cazzo gli serve? Non ne ho la minima idea. Gli dia un'occhiata lei quando arriva. Proposta sono lì? Sì, signore, tutto sotto controllo. Sì, signore! Sì, signore! 25 e 75 il cliente mission va a fare una battaglia solo a 14 va bene, inoltre l'informazione è estretto la battaglia 5 si reati solo a 14 sembra che ci sia salve, che c'è che non va? scenda dalla macchina per favore e quello cos'è? scenda dalla macchina per favore quello a che serve? mi dispiace mi dispiace stare fermo per favore scenda dalla macchina sta fermo accidenti scenda dalla macchina scenda dalla macchina